Potevo vedere nel chiaro di luna l'umidità che splendeva sulle sue labbra scarlatte e la lingua rossa che passava sui suoi denti bianchi ed aguzzi. La sua testa scendeva sempre più in basso. Quando le labbra giunsero a portata della mia bocca e del mio metto sembrava che stessero per attaccarsi alla mia gola. In quell'istante io fui consapevole della presenza del conte. Come osate toccarlo? Indietro vi ordino. Quest'uomo appartiene a me. Terrorizzato l'uomo giace sudato e nauseato con l'anima colma di angoscia e ricorda la cena della notte precedente. Aveva dapprima assaggiato lo strano granchio e poi stupidamente aveva finito per mangiarlo tutto. Appena si risveglia dall'incubo nasce in lui un'ossessione. Dopo quel pasto l'uomo si imbarca per un viaggio di sette anni nei profondi recessi della mente. Il suo nome? Bram Stoker, dal cui sogno prenderà forma un'apparizione mai vista prima. Quell'incubo prese vita in alcune note che lui scarabocchiava per una eventuale storia. Questo trasformò Bram Stoker nel romanziere dell'orrore di maggior successo di tutti i tempi e traspose un demonio da leggenda nel mito più resistente del ventesimo secolo. Forse molti di voi non hanno letto il libro Dracula, ma si saranno imbattuti in almeno uno delle centinaia di adattamenti cinematografici. Bella Lugosi e Christopher Lee Le stelle dello schermo che hanno reso famoso il nome di Dracula echeggiano in tutto il mondo. Dracula, aristocratico signore dei non morti, minaccia di sconvolgere la società ben organizzata dell'Inghilterra vittoriana in un'orgia di sangue, sessualità sfrenata e brutte inflessioni ungheresi. Seduce le nostre donne e le trasforma in cattivi mostri ematofagi. Naturalmente alla fine il cattivo è messo al bando dai valori tradizionali. Il conte finisce agli inferi con le donne sessualmente emancipate che lo seguono e i casti giovani innamorati vivono felici e contenti. E Dracula si può trasformare in una figura di paura tanto quanto in una figura di divertimento. Tutte cose abbastanza sciocche a pensarci bene. Quindi perché questo libro è stato ristampato senza soluzione di continuità da quando fu pubblicato nel 1897? Cosa c'è in questa storia d'amore e sangue che gli dà un potere così forte? In breve, da dove ha origine la storia di Dracula? E che cosa continua a far vivere la leggenda? Lo scrittore Peter Heining ci guida alla ricerca delle origini dell'antenato di tutti i vampiri, Dracula. Un mito che nasce come un prodotto della mente, un frutto della fantasia narrativa. La storia di Stoker è abbastanza semplice. Versioni più recenti, come questa rappresentazione teatrale tedesca, mostrano un conte Dracula che lotta contro i turchi per la cristianità in una terra mitica oltre la foresta. Al ritorno trova la sua adorata moglie morta, si scaglia contro la croce ed è dannato per l'eternità. Stoker stesso presenta un giovane avvocato inglese, Jonathan Harker, in viaggio nella lontana Transilvania per aiutare un conte del luogo nell'acquisto di un maniero inglese. Nel castello di Dracula, Harker vede il conte attratto dal ritratto della sua fidanzata Mine, che il conte scambia per la sua adorata moglie persa da tanto tempo. Incontra l'arem spettorale di Dracula e scopre che il conte è circondato da vampiri che per continuare a vivere devono nutrirsi di sangue. Mentre Harker è tenuto prigioniero, il conte naviga verso l'Inghilterra, con il progetto di assumere il controllo del mondo e di trasformare tutti in vampiri. Al suo arrivo seduce la bella Lucy, un'amica di Mina alla fidanzata di Harker. Lucy? Lucy, dove sei tu? Lucy sparisce, ma torna sotto forma di vampiro, finché gli uomini che l'amano la uccidono. Poco i nostri amici possono fare. Dracula rivolge la sua attenzione a quella che sta per diventare la sposa di Harker, Mine, che viene stregata e morsa dal conte. Ma i nostri eroi lo inseguono fino in Transilvania, dove viene preso e ucciso con un paletto nel cuore, in un'orgia di schizzi di sangue. Non si tratta di niente di particolare se paragonato agli standard di oggi, ma nessun altro lavoro della narrativa è stato popolare come questo per così tanto tempo e ha generato tante variazioni, discussioni e analisi. Qualunque siano le origini di questa strana storia, bisogna analizzare la vita del suo autore, Bram Stoker, e i tempi in cui viveva. Il libro viene distribuito ad un pubblico impaziente nel 1897. Il potere dell'impero britannico è al culmine. L'Inghilterra vittoriana è un insieme di contraddizioni. Controllando il più grande impero mai posseduto, gli inglesi orgogliosi e fiduciosi in se stessi sono diffidenti nei confronti di quasi tutti gli altri. Coloro che sono dominati dal loro impero vengono considerati dei selvanci. Il resto dell'Europa è sospettato, non senza motivo, di complottare per far vacillare l'Inghilterra e sgretolare l'impero. E l'Europa orientale è vista come detentrice dei difetti maggiori di entrambe le parti. La classe dirigente vittoriana prese le sue regole di comportamento da Buckingham Palace e la regina Vittoria stabilì delle strane norme. Distaccata ed emotiva, non si riprese mai dalla morte del marito, il principe Alberto. Per 40 anni, il tempo che le restò da vivere, si vestì di nero e fece apparecchiare la tavola anche per il defunto principe, imponendo un vero culto della morte che pervase tutta la sua epoca. Il nero diviene il colore di moda. E in questa moda della necrofilia dettata dal momento, gli eroi di Stoker visitano cimiteri, aprono tombe e vengono orrendamente spaventati. Tutto in armonia con le storie gotiche che emozionano i vittoriani. Salda nei suoi valori convenzionali, l'aristocrazia britannica diffida dei cambiamenti. La rivoluzione industriale la spinge ai vertici della scala economica. La popolazione rurale si trasferisce nelle città per approfittare dei nuovi lavori in fabbrica, che permettono alle donne di unirsi alla forza lavoro, emancipandosi e chiedendo una nuova posizione nella società. Il 1897 è anche l'anno della psicoanalisi di Sigmund Freud, che nella lontana Vienna penetra nella psiche in un modo nuovo ed enfatizza il desiderio sessuale. Consapevole che sotto la moralità soffocante della società vittoriana si cela una sessualità repressa e contorta, Stoker è ugualmente consapevole che Freud è uno straniero. E' anche il tempo in cui si diffonde la sifilide nella Londra rampante e vittoriana, che è sia scioccata che affascinata dagli scandali erotici, dalle messe nere e dall'occultismo. Quando la povera popolazione rurale invade le città, il crimine diviene usuale. Giacolo Squartatore si aggira furtivamente nelle strade di Londra e fa inorridire i lettori che seguono i suoi atti orribili sui quotidiani. Ecco uno dei commenti sullo Squartatore. Questi atti disgustosi portano la mente istintivamente a teorie sulle forze occulte e sui miti dell'alto medioevo, sorti prima di quanto si possa immaginare. Gli spiriti maligni che dissotterrano e divorano i cadaveri, i vampiri che succhiano il sangue, prendono forma nelle menti eccitate. Se Stoker non fosse stato uno scrittore così brillante, sarebbe comunque stato in armonia con le paure del suo tempo. Con le sue immagini morbose di cimiteri, abbazie in rovina, tombe aperte e morti che camminano, tabù sociali delle donne emancipate, sesso e ossessioni maniacali, Dracula era destinato a essere un successo. Dracula era preso di essere un successo. Ma non è altro che un aspetto delle paure della società vittoriana. Il mondo da incubo di Dracula è il prodotto di un'anima torturata che cerca di eliminare i suoi demoni. Stoker nasce nel 1847 in questa casa a Dublino, in Irlanda. Il giovane Stoker cresce in una terra di narratori. Nessuna città nel mondo è come Dublino. Storie di lupi mannari, spiriti annunciatori di morte e carrozze spettrali che avanzano nell'oscurità. Se Stoker non fosse provenuto da questo strano contesto, è probabile che Dracula non sarebbe mai diventato parte del folclore mondiale. Fino ai sette anni, Bram non può camminare. È così cagionevole che i genitori pensano che il bambino non possa vivere ancora per molto. Io non sapevo cosa significasse stare in piedi. Quando mi sdraio sull'erba, quei giorni mi tornano in mente con chiarezza. Guardavo le persone che camminavano e mi chiedevo come facessero. Stoker ricorda le storie raccontategli da sua madre sulla grande carestia. Quando un terzo degli irlandesi morì, un altro terzo abbandonò il paese e i superstiti aprirono le cripte dei cimiteri per trovarvi ricovero. Vicino alla casa di Stoker c'era un cimitero sconsacrato per suicidi e secondo la credenza locale, se un paletto di legno fosse stato conficcato nel cuore di un suicida, il morto non sarebbe tornato a disturbare i viventi. La tomba di famiglia di Stoker si trova in una chiesa nella quale particolari caratteristiche del terreno rendono possibile la conservazione dei corpi come mummie, ancora visibili ai giorni nostri. Sua madre gli aveva raccontato storie terribili di fatti avvenuti a Sligo durante l'epidemia di colera, quando persone ancora vive venivano gettate con i cadaveri nelle tombe. Storie decisamente terrorizzanti per un giovanetto. Incredibilmente Stoker superò la sua malattia e diventò un atletico gigante quando andò al Trinity College a Dublino. Al Trinity College Stoker viene istruito come un fido sostenitore della società. Sposa l'affascinante Florence Balcombe, che gli amici descrivono come una persona distaccata e fredda, probabilmente frigida, tormentata dalla sua grande bellezza e dal bisogno ossessivo di mantenerla. Florence gli era stata presentata da un comune amico, il poeta e drammaturgo Oscar Wilde. Fu Wilde stesso a introdurre Stoker nel mondo del teatro, che sarà l'unica vera passione della sua vita. In particolare era affascinato dal lavoro del grande attore shakespeariano Henry Irving, che recitava nel teatro londinese in L'Iceum. Seguiva religiosamente il suo lavoro e quando Irving gli offrì di diventare direttore del suo teatro, Stoker accettò con entusiasmo. Infatti lasciò l'Irlanda per lavorare per Irving solamente alcuni giorni dopo il suo matrimonio e da all'ora in poi si dedicò al teatro e ad Irving forse più di quanto si dedicasse a sua moglie. Irving, il primo attore nella storia britannica a cui è concesso di essere nominato pari, è conosciuto come una persona esigente, fredda ed irriconoscente, come Florence Stoker. Quando Irving viene acclamato nel 1887 per il suo ruolo di Mephistophel in Faust, Stoker verrà citato per aver detto che il suo capo è davvero un diavolo perfetto. Suppongo che Irving fosse l'eroe di Stoker, il suo dio, e gli dedicò 27 anni della sua vita, servendolo in teatro. Aveva poco tempo per scrivere, eccetto nei rari intervalli tra le produzioni, quindi si tratta di un romanzo veramente scritto nei ritagli di tempo. Apparentemente Bram Stoker era un pilastro della rispettabilità vittoriala, ma la sua mente era tormentata. Quell'incubo produsse i suoi effetti nei sette anni durante i quali iniziò a plasmare il suo personaggio. Come osate toccarlo? Quest'uomo appartiene a me! All'inizio era solo una serie di immagini sconnesse. L'unico appunto pervenutoci del 1890 dice «Un vecchio uomo redivivo». Il suo lavoro in teatro era troppo logorante per continuare il libro, quindi i suoi appunti appaiono come tentativi deludenti. Niente titolo, niente tram, niente dracola, niente Transilvania. Ma le cose cominciano a mettersi a fuoco quando porta la sua famiglia in vacanza nell'isolata città balneare di Whitby, sulle coste del mare del nord. Nutrendosi ancora di antiche rovine e romantiche storie di vecchi marinai, il soggiorno di Stoker è ancora oggi ricordato a Whitby che è divenuta un luogo di pellegrinaggio per amanti di Dracula e appassionati di vampiri. Stoker trova qui molte delle sue ambientazioni e informazioni di prima mano che gli servono per ordinare i suoi appunti disgregati in una storia logica. Da uno dei marinai del luogo, William Petternich, sente la storia misteriosa di una goletta russa, la Dimitri, che si era arenata nel porto cinque anni prima con un carico di polvere d'argento. Tutte le vele erano state distrutte come se la goletta fosse stata investita da una tempesta. Non c'era anima viva a bordo, non fu mai trovato nessun segno dell'equipaggio. Quel naufragio avvenne qui, sulle Tate Hill Sands. Quello strano racconto ispirò Stoker, che stese le prime pagine effettive della sua storia. Un freddo autoritario vampiro arriva dall'Europa orientale su una goletta abbandonata, la Dimitri, e non la Dimitri, per trasferire la storia fuori dall'Inghilterra. Il vento improvvisamente volse a nord-ovest e investì la goletta distruggendo tutte le vele. Un brivido attraversò chi la vide. Per giunta al timone c'era un cadavere con la testa china che dondolava orrendamente avanti ed indietro ad ogni movimento della nave. Oddio, Lucy, guarda! Le eroine di Stoker, Mina e Lucy, sono prese dalla vita reale. Si tratta di due attraenti giovani donne che abitano a Whitby, alcune case dopo quella della famiglia Stoker. Ma le prove terrorizzanti a cui sono sottoposte nel libro sono il risultato della frustrazione di Stoker nei confronti di un'altra bella donna, sua moglie. Stoker passeggiava spesso da solo fra le vecchie tombe coperte di muffa del cimitero di St. Mary, piene di nomi di marinai morti e affogati. Qui si legge «Noi speriamo che le nostre anime alla fine dimoreranno in paradiso». Ed è in questo cimitero che Stoker concepì l'idea che il vampiro attaccasse la sua prima vittima sul suolo inglese, Lucy Westenra. Il terrorizzante regno di Dracula era iniziato. Io corsi lungo la terrazza, ma non riuscivo a vedere niente di ciò che mi aspettavo. Dall'orlo della scogliera guardai verso il porto, nella speranza o paura di vedere Lucy sulla nostra panchina favorita. Ero abbastanza vicina per distinguerla. C'era indubbiamente qualcosa di lungo e nero curvo sulla figura bianca un po' reclinata. Io la chiamai spaventata. Lucy! Ma la biblioteca di Whitby contiene il tesoro più importante per Stoker. Cercando qualcosa da leggere, Stoker si imbatte in questo libro. Una descrizione dei principati di Valacchia scritto da un defunto console britannico di Bucharest. Da pagina 19 Stoker buttò giù appunti frettolosi come questo. Soprannome, nella lingua della Valacchia, di chiunque sia coraggioso, compia azioni crudeli o sia astuto, Dracula o diavolo. Stoker non aveva ancora un'idea di cosa potesse significare tutto ciò. Questo libro, col suo titolo senza pretese a tempo debito, rappresenterà il certificato di nascita del conte Dracula. Io penso che l'idea di un castello tetro e minaccioso gli venne da un libro che scrisse per i bambini. Il libro, intitolato Sotto il tramonto, ha una illustrazione del temuto castello della morte, e qui lo si può vedere. Nulla potrebbe dare meglio l'idea del castello di Dracula. Ma per la sua storia, Stoker ancora non pensa alla Romania. Dal 1893 in poi, sceglie di trascorrere le vacanze nel villaggio scozzese di Cruden Bay, situato in un panorama tetro come il suo clima. Gli abitanti del luogo parlano di Stoker come di un uomo privo di senso dell'umorismo, che passa il tempo camminando su e giù per la spiaggia e che dimostra la sua frustrazione gridando spesso rivolto al mare. Ad alcuni chilometri di distanza si trovano le imponenti rovine di una grande dimora elisabettiana, Slane's Castle. Una rovina enorme arroccata su una rupe una volta residenza della famiglia Errol che avendo una grande paura che i morti tornassero per uccidere i vivi praticavano spesso sacrifici. Immediatamente divenni consapevole del fatto che ero nel cortile di un enorme castello in rovina le cui merlature rotte disegnavano una linea lugura contro il cielo illuminato dalla luna. in che genere di avventura allucinante mi ero imbarcato. Stoker ha già immaginato il drammatico arrivo del vampiro in Inghilterra. Ora che ha trovato il suo castello può cominciare ad immaginare ciò che è avvenuto prima del naufragio a Whitby. Il suo eroe il giovane avvocato Jonathan Harker arriva alla casa del conte vampiro. Il conte Dracula? Sì, sono io, Dracula. Come sarebbe stato Dracula? Il personaggio cominciò a prendere forma nella mente di Stoker a immagine di certi personaggi famosi che aveva incontrato e conosciuto quando venivano ad assistere alle straordinarie interpretazioni di Irving all'Iseum. Il Dracula di Stoker ha i capelli bianchi del compositore ungherese Franz Liszt. Naso ed occhi sono di Harry Irving, l'attore che è il suo idolo e il diavolo perfetto. I rigogliosi baffi sono di Richard Barton, il famoso esploratore. Dall'attore Jack DeMalla prende in prestito lo sguardo fisso da fumatore di oppio e sul volto del primo ministro William Gladstone che ammira, Stoker trova l'aura dell'immortalità che traspone nell'espressione di Dracula. Io sono Dracula. Fu in una biblioteca londinese che Bram Stoker fece la scoperta che avrebbe definito il volto del suo personaggio. Stoker veniva qui spesso ad approfondire le sue ricerche e in una di queste occasioni scoprì un opuscolo tedesco del 1491 che riportava la cronaca delle avventure di Vlad Tepes chiamato Dracula. Questa è la faccia di un uomo dedito alle armi e incattivito, non del gentiluomo ritratto nei film. Naso aquilino. E in un altro libro La terra oltre la foresta Stoker trova una descrizione del luogo dal quale proviene la Transilvania. Tra queste montagne hanno trovato rifugio tutti i demoni, le streghe e gli spiriti maligni combattuti nel resto dell'Europa con la scienza. Stoker adesso ha il suo personaggio gotico, la Transilvania, e una casa perfetta per il suo Dracula. Un luogo straniero e remoto per niente civilizzato nella maniera che intenderebbe un gentiluomo inglese. Un mondo dove può accadere qualsiasi cosa. Nel suo libro l'eroe di Stoker registra meticolosamente panorami, locande, orari delle partenze quando viaggia, eccetera, eccetera. Stoker non andrà mai più a destra di Whitby o dell'Iceum Theater. Si è imbarcato per un viaggio con la mente, raccogliendo tutti i dettagli di cui ha bisogno dalle guide di viaggio come la guida Bedeker di Austria e Ungheria. se Bram Stoker conosceva così poco del vero Dracula la domanda è chi era il vero Vlad Tepes e cosa gli fece meritare il terribile destino di diventare il più famoso vampiro del mondo. 1460 il principe Vlad Dracula domina un piccolo territorio tenuto insieme con guerre e crudeli. Questo è il suo palazzo il suo paese la Valacchia non la Transilvania. Visse in tempi crudeli quando le stesse azioni potevano far apparire una persona come un eroe o come un mostro dipendeva esclusivamente dal punto di vista. È precisamente quello che accadde a Dracula. Per un certo periodo in Europa questo principe della Valacchia è stato considerato un eroe apprezzato dal Papa stesso per aver respinto gli invasori pagani che stavano minacciando l'Europa. La storia lo ricorda per il suo regno del terrore più inquietante della fantasia narrativa. I temuti turchi hanno appena conquistato Costantinopoli capitale dell'antico impero romano di Bisanzio e ora stanno avanzando verso ovest con una serie di vittorie che sembrano destinate a ingoiare l'Europa. Sulla loro strada verso il prossimo obiettivo l'Ungheria si trova la piccola Valacchia nel sud di quella che è l'attuale Romania. Prima di affrontarli Vlad mette ordine in casa sua. Tutti i nobili che potrebbero rappresentare una minaccia per il suo trono vengono uccisi barbaramente per dare il buon esempio come usanza in quel periodo. questa torre non era soltanto un posto di guardia per avvistare i nemici era da qui che il principe Vlad aveva un'ampia visuale sulle atrocità che metteva in atto nel cortile sottostante. Qui è anche dove Dracula mostrava cosa intendeva per affari. Le leggende sono molte Dracula invita tutti i mendicanti del suo paese ad una grande festa. I mendicanti sono spesso anche ladri quindi perché distinguere? Dracula libera da loro il suo paese dando fuoco alla sala e bruciandoli vivi. Anche le chiese subiscono la collera di Vlad se non pagano le tasse necessarie per la guerra. Le proteste delle chiese si fanno sentire. Vlad favorisce le attività economiche liberando il paese dal flagello delle bande di ladri impalandoli lungo le strade perché servano da esempio agli altri. Così Vlad cerca di preparare il suo paese alla grande tempesta. Il padre di Vlad Vlad Dracul era importante nell'ordine del dragone un nobile ordine di cavalieri cristiani. Dracul vuol dire il dragone e suo figlio che nacque in questa casa diventò noto come Dracula figlio del dragone. A soli 14 anni Vlad è ostaggio dei turchi che così cercano di controllare suo padre. Da loro Vlad apprende la crudeltà il disprezzo per la vita e l'uso del terrore. Controllando Dracul e suo figlio la Valachia non rappresenta per i turchi un freno nell'avanzata verso l'Ungheria e il cuore dell'Europa. Il mondo cristiano invoca un salvatore. Quel salvatore sembra essere Vlad Dracula. Quando i turchi attaccano Vlad e il suo piccolo esercito colpiscono a loro volta con attacchi a sorpresa. Il coraggio sconsiderato e la crescente ferocia fanno inorridire sia gli alleati che i nemici. Non peggiore degli altri guerrieri del suo tempo Vlad ottiene la reputazione di assassino sadico tra i coloni tedeschi che si trovano sulle rotte commerciali con la vicina Transilvania allora parte dell'Ungheria. I loro castelli e le città ancora testimoniano la loro ricchezza. Il loro interesse è conservare la pace per le attività commerciali con i turchi. Quello che serve a Vlad invece sono i loro soldi sotto forma di tasse per la guerra. Per Vlad i sassoni rappresentavano semplicemente il modo per arrivare ai turchi ma i loro opuscoli cominciavano ad apparire in tutta Europa denunciando Vlad come un demonio la cui collera doveva essere evitata a tutti i costi. La più grande esecuzione di massa voluta da Dracula ebbe luogo qui vicino alla città di Brashov. Per un mese Dracula e i suoi nobili banchettarono mentre centinaia di sassoni venivano impalati metodicamente intorno a loro. Questa axilografia tedesca dell'epoca descrive la scena. Gli storici non parlano di centinaia o migliaia di impalati ma di sedici. Nessuno comunque può negare la sua crudeltà meno di tutti i turchi. Quando gli inviati turchi rifiutano di togliersi i turbanti in segno di deferenza al principe Vlad li rispedisce al loro capo con i turbanti intiodati alla testa. Quando il sultano turco Mohammed guida il suo esercito in Valacchia una foresta impressionante di cadaveri l'attende. Vlad ha impalato tutti i turchi che sono caduti nelle sue mani. La storia narra che il sultano si sia rivolto al suo esercito dicendo che cosa possiamo fare contro un uomo capace di questo. Il lamento dei turchi si unisce ai gemiti della chiesa e dei commercianti sassoni. Da questo momento Vlad Dracula difensore della cristianità diviene noto come Vlad Tepes Vlad l'impalatore. La caduta di Dracula è favorita dal re dell'Ungheria Mattia Corvino che preferisce la pace con i turchi all'essere coinvolto in una guerra da Vlad. Quindi Mattia invita Vlad e lo fa arrestare. Si dice che durante i dieci anni della sua prigionia Vlad nella sua cella abbia impalato topi e addirittura ragni. Successivamente nell'arco di pochi mesi sposa una delle sorelle del re. Non può essere del tutto cattivo. La cattiveria come la bellezza sta nell'occhio dell'osservatore. Per questo l'ultimo dittatore rumeno Nicolae Ceausescu ha scelto Dracula come modello. Ceausescu proclama Vlad Tepes eroe dell'indipendenza rumena. Erige statue e stampa Franco Bolli in suo onore. Ceausescu lascia questa eredità alla Romania. cantieri enormi che trasformano i quartieri delle città e i villaggi in una folle megalomania. Queste enormi gru sono inattive dalla caduta di Ceausescu nel 1989. Ceausescu costruisce la sua residenza estiva di fronte a questo piccolo convento di Snagos. Si dice che sia l'ultima dimora di Vlad Tepes. Agli inizi del turismo di massa alla tomba si dà per scontato che la notte sia un momento favorevole per i seguaci che sperano in eventi inaspettati. Comunque la tomba risulta essere vuota. Malauratamente vuota. Anche se Vlad era uno psicopatico assassino di massa seguito da una pubblicità incredibilmente negativa e oggi ancora non riposa in pace nella sua tomba questo non significa che lui fosse un vampiro o che i vampiri esistano. Infatti nulla suggerisce che Vlad l'impallatore abbia qualcosa a che fare con il vampirismo e molto poco con la Transilvania. Questo sembra essere ormai assodato. Io credo che la realtà non migliori la storia non di meno per gli amanti del macabro i posti associati a lui sono divenuti luogo di pellegrinaggio turistico. Noi abbiamo aperto al turismo internazionale nel 1960 una delle prime richieste dei visitatori occidentali alle guide rumene era può dirci dove è il castello di Dracula? In quel momento noi non ne sapevamo niente il libro è stato tradotto in rumeno solo nel 1992 ed anche la prima volta che i film sui vampiri sono stati proiettati in Romania è stata nel 1992 quindi con l'eccezione di una manciata di persone che lavorano per il turismo e sono in contatto con il folklore o la storia il resto della Romania è assolutamente all'oscuro di Dracula e le persone dicono questo è quello per cui vanno matti? Sono questi i film che li entusiasmano tanto? Queste domande le hanno poste persone per le quali il folklore è ancora molto vivo quindi non si possono biasimare i rumeni se sfruttano abilmente il turismo sulle tracce di Dracula viene servita la cena di Jonathan Harker precisamente come la descrive Bram Stokin non c'è mai stato un castello di Dracula in Transilvania ma questa trappola turistica ora sorge sul Borgo Pass precisamente dove Bram Stoker lo ha immaginato Stoker si rigirerebbe nella tomba se sapesse che viene usato per concorsi di bellezza e cose simili nel nome della casa di Dracula con il presente atto Miss Transilvania eletta Contessa Dracula se questo è il premio immaginate la sorpresa che attende l'inconsapevole Contessa ansiosa di congiungersi con il marito nella sua bara Bram Stoker era interessato solamente a creare l'ambiente per una storia delicata un personaggio gotico vecchio stile e un'atmosfera sinistra se Bram Stoker conosceva così poco il vero Dracula dove abbiamo trovato l'immagine del conte col suo mantello da opera e il sorriso poco rassicurante per questo dobbiamo risalire all'inizio del XIX secolo gli orrori delle guerre napoleoniche hanno fatto volgere l'attenzione sul mistico e sul morboso il romanticismo del momento si nutre di nuove storie d'orrore di stile gotico il vampiro che ispira veramente Stoker nasce qui a Villa Deodati sulle rive del lago di Ginevra in quell'estate tempestosa del 1816 un piccolo gruppo di persone selezionate sedeva sera dopo sera sfidandosi l'un l'altro ad escogitare racconti inverosimili sempre più osceni storie spesso ispirate da droghe il famoso poeta Shelley fu visto qui con sua moglie Mary usare il laudano come tranquillante anche la figura sempre più esaltata di Lord Byron probabilmente la figura più romantica della sua epoca usava l'oppio procurato dal suo giovane medico John Polidori anche lui presente Byron che sarebbe poi morto lottando per l'indipendenza della Grecia racconta la storia di un aristocratico membro di un'antica famiglia i Denville che muore in Turchia ma rinasce dalla morte e dalla fantasia di Mary Shelley nacque questa figura mostri creati dalla letteratura nelle storie dell'orrore il golem della mitologia ebraica che nasce dalla Creta il mostro di Frankenstein e Dracula tutte queste storie hanno un tema in comune che ossessionava le persone 200 anni fa come le ossessioni ai giorni nostri la paura della morte e la ricerca dell'immortalità e di tutte queste storie due sono nate su questo tavolo l'aristocratica creatura nata dalla mente di Lord Byron presto dimenticata ma fu inaspettatamente riesumata dal giovane medico di Byron Polidori che senza autorizzazione aveva riscritto e abbellito il libro intitolato anonimamente Il Vampiro The Vampire Byron è furioso anche se Polidori dipinge il suo vampiro Lord Rudven ecco il padrone come frequentatore delle sale di un castello scozzese kilt compreso dove è la mia sposa sono qui mio signore è chiaro a tutti che lui l'intende come una parodia di Byron stesso e ad essere onesti il personaggio alcune caratteristiche di Byron per qualche tempo per qualche tempo vive in un'abbazia in parte di roccata veste solo in nero mangia pressoché niente per mantenersi magro beve l'aceto per far impallidire il suo volto e ha un potere eccezionale sulle donne e i giovanotti e il vampiro aristocratico è presentato veramente bene con le migliori credenziali possibili soave elegante nel suo mantello da opera e tutto il resto ed è questa probabilmente l'immagine che ossessiona Bram Stoker nei suoi incubi indietro vi ordino quest'uomo appartiene a me il Dracula di Bram Stoker come le prime creature quali Ruthven o Varney il vampiro di Thomas Prescott Press pubblicato su una rivista in fascicoli settimanali sono tutti prodotti della fantasia ma le altre storie di vampiri hanno una base diversa nascono da personaggi reali tanto perversi e sadici come quelli della creazione letteraria Gilderet maresciallo di Francia e comandante di un esercito si dice che abbia trucidato 200 giovanetti lui era uno dei più grandi assassini seriali di tutti i tempi come Elizabeth Bathory che era cattivissima e Ingrid Pitt l'attrice che ridà vita alla mostruosa contessa ungherese Elizabeth Bathory che alcuni chiamano Contessa Dracula una contessa che si bagna nel sangue per conservare la gioventù e la bellezza Siamo nel 1600 per anni la contessa Elizabeth Bathory nasconde la mostruosa realtà dietro un volto fresco che ha visto centinaia di ragazze uccise per il loro sangue Le ragazze venivano portate al suo castello dalle madri volevano che avessero un lavoro sicuro e che stessero al caldo perché c'era la guerra in quel periodo i turchi attaccavano continuamente il loro territorio non avevano idea di quello che stavano facendo stavano portando le loro figlie a quel demonio a quell'assassina lei le metteva in una gabbia di ferro piena di punte all'interno poi faceva innalzare la gabbia fino al soffitto a quel punto le sue serve più fedeli torturavano le ragazze con delle torce e le fanciulle si ferivano sulle punte il sangue delle poverette colava su di lei e lei faceva cose sessualmente scellerate le dava tale piacere che teneva il sangue su di sé e andava a letto così e il sangue cominciava a puzzare e il letto cominciava a puzzare e lei lo faceva ancora e ancora e ancora si dice che abbia ucciso 650 giovanetti la Bathory non sarà mai accusata di essere un vampiro e nemmeno De Re ma le poche informazioni che sfuggono toccano paure antiche di individui demoniaci succhiatori di sangue paure vecchie come il mondo se c'è un vampiro reale è questo e questo solamente il pipistrello vampiro che vive in Sud America e che qui sta bevendo di nascosto il sangue di una giovane foca che dorme beve il sangue sorgente di vite quindi la paura del vampiro si tramanda attraverso tutte le età e tutte le culture ci sono i demoni amatofagi di alcune popolazioni peruviane o il dio vampiro mongolico gli antichi romani li chiamavano Lamie o Mormor perché la credenza in tale creatura bizzarra e improbabile è stata così estesa la risposta probabilmente sta nel tema di queste storie necessità del sangue per preservare la propria vita non solo oggi ma per migliaia di anni l'umanità ha attribuito al sangue poteri magici e il potere di ridare la vita del sangue sacrificale è presente anche negli insegnamenti della chiesa cristiana come dice il Vangelo di San Giovanni chi si nutrirà della mia carne e berrà il mio sangue avrà la vita eterna quindi non è sorprendente che l'attrazione sinistra per il sangue divenga molto comune nei paesi cristiani l'idea dei vampiri in Europa orientale è collegata con il diffondersi della rabbia o con le epidemie di colera durante le quali molti morivano e i vivi venivano sotterrati con i morti e quando i vivi osarono aprire le tombe dopo che le acque si furono calmate trovarono alcuni cadaveri notevolmente ben conservati con del sangue sulle dita e espressioni molto infelici sui volti il folklore il folklore della Transilvania non ritrae il vampiro come un gentiluomo ma come un contadino molto attivo sessualmente la voce tonante le unghie sporche una barba non rasata e un alito terrificante e lui non cerca il collo ma il torace una gran differenza dal nostro vampiro aristocratico cordiale appena rasato la cui zona preferita è il collo ma la Transilvania dove lo dovrebbero sapere ha un'idea diversa dei vampiri si cerca il vampiro in Elizabeth Battery in Jack lo squartatore in qualche anomalia patologica il vampiro non è quello il vampiro è una categoria soprannaturale del folklore con un contratto con l'umanità con la comunità il vampiro è il poliziotto dell'antichità è attraverso la paura della punizione del vampiro che l'incesto è stato evitato l'omicidio è stato fermato il furto è stato frenato è attraverso la minaccia del vampiro che le norme sull'igiene sono state rispettate la gente per conoscere il bene ha bisogno di conoscere il male e il vampiro svolge questo ruolo in questo senso il vampiro è vero Dracula invece rompe il contratto con l'umanità il conte Dracula è l'unico vampiro abberrante che attacca i bambini innocenti le vergini attacca anche i preti non ha nessun rispetto per il contratto non ha nessun rispetto il capitalismo il capitalismo il satanismo e le malattie come la sifilide e l'AIDS ma forse molto più semplicemente Dracula è pauroso e noi spesso godiamo dall'essere spaventati un caso di fermatelo mi piace una ragione per la popolarità del libro tra gli adolescenti si è discusso se è perché tratta di sesso sesso senza colpa sesso senza responsabilità sesso senza gravidanza sesso che dura per sempre non esattamente sesso sicuro ma non si può avere tutto Stoker era beatamente inconsapevole di tali implicazioni lui pensava al suo libro più come una storia d'avventura nella quale uomini leali difendono il sesso femminile dagli sporchi europei orientali che vogliono sconvolgere l'ordine della società britannica il mito è istericamente divertente non posso prenderlo sul serio ma penso che sia un grande divertimento ecco perché il desiderio del macabro è cambiato le cantine cripte funzionano con profitto il sangue coagulato fa sorridere molti dei seguaci mettono in mostra i loro denti in maniera innocua è un hobby sano per divertire le persone e tirarle su è una liberazione è una fuga e qui si possono dimenticare tutte le cose terribili che sono sui giornali tutte le guerre tutti i delitti possiamo fingere di aver bisogno di violenza ma per divertimento per noi che adesso abbiamo missili guidati e computer penso che Dracula sia profondamente confortante rassicurante pittoresco e prevedibile quel Dracula non è più qualcosa che ci spaventa realmente è qualcosa con cui possiamo giocare una specie di pantomima in maschera del diavolo e della crudeltà c'è un lato crudele e malvagio in noi e noi possiamo ridere della nostra natura cattiva distruttiva e non prenderla troppo seriamente e così lo stravagante Dracula di oggi risulta essere piuttosto innocuo questi succhiatori di sangue vogliono solo divertirsi sono sicuro che questi individui sverrebbero alla vista del sangue o di una fetta di carne cruda sono vegetariana caro io sono un aristocratico sono il conte Alexander di Berexasi l'ultimo conte di Berexasi austro-ungherese e vivo qui da 16 anni così lei viene dal paese oscuro dal quale venne il cattivo perché il cattivo è il prezzo da pagare per la bellezza e l'immortalità è l'eterna giovinezza sì la vita eterna io penso che sia un desiderio universale è una bella fantasia un'evasione dalla realtà può dartela una bella bevuta almeno per qualche ora noi naturalmente non stiamo bevendo davvero sangue è bello essere spaventato e spaventare inoffensivamente sì paura paura senza rischi paura che scomparirà quando le luci del teatro si riaccenderanno come un incubo che svanisce all'anno è così siamo tornati al luogo dove tutto è cominciato incubi se ricordate è dall'incubo di Bram Stoker che comincia l'odissea che dà luogo alla creazione di Dracula è un sogno che chiunque avrebbe potuto fare tutti facciamo brutti sogni ma l'incubo di Bram Stoker è responsabile della nascita di un genere letterario un'industria del vampiro e un mito moderno e tutto a causa di un granchio che meriere che meriere grazie a tutti grazie a tutti